Sono uscite ufficialmente le informazioni e anche le animazioni sulla nuovissima LR in uscita su Dragon Ball Z Talk and Battle versione JAP. Per quanto riguarda Golden Freezer LR, finalmente conosciamo anche il colore dopo le scande di JAP, e cioè AGL. Attenzione perché mi han detto che avrà delle animazioni pazzesche, delle animazioni incredibili, ma soprattutto anche una carta fantastica. Io non vedo l'ora di andare a vedere insieme a voi sia le animazioni, quindi a reactare a queste animazioni, e sia anche alla carta. Ovviamente proveremo la carta insieme, in live, in video, insomma vediamo un pochino quando sarà possibile. Ma soprattutto devo dirvi una cosa, prima di fare l'analisi, visto che abbiamo comunque le informazioni, ma guardiamoci prima un minuto e 45 di animazioni. Vai subito! Facci divertì, Freezer0, vedo già dei begli assets, eh, molto carini. Ok. Un frame io l'ho visto, ve lo devo dire. Veramente spettacol... era questo qui probabilmente, questo è spettacolà... guardate qui che roba! Sto frame è spettacolare! Bellissimo! Ma cos'è questa? È una entrance? Non è una active? Cos'è? Non dovrebbe. Mi pare che la carta partiva direttamente da Golden Freezer, quindi questa è l'animazione d'ingresso. Era in realtà. Non lo so, eh, vado a sentimento, a sensazione perché non ho ancora letto la carta. Voi già lo saprete probabilmente o no? Non ho idea. Bella! Pulita questa qui! Clean! Guardate qui che bello! Pulita nel movimento, pulita soprattutto negli assets, bella anche l'animazione facciale, l'espressione in realtà. Bello! Mica male! Mica male! Questa in per due render... cos'è? Ah, ok, vabbè. Questa in per due renderà benissimo. Ok, era un entrance sicuramente. Questa è la active... nooo, gli ha messo la active... Bellissima! Bellissima! Allora, una mossa del genere ce l'hanno i Golden Freezer vecchissimi, tipo Golden Freezer Tech, Golden Freezer... Ce l'hanno quelli lì? No, Golden Freezer Tech in realtà mi sa. Però nessuno ce l'aveva fatta così come si deve. Questa è bellissima sta active. Ma io non vedo l'ora di capire quanto danno riuscirà a causare questa active skill, perdonatemi, perché... Eh... potrebbe, potrebbe essere... Allora, vediamo un attimo, perché potrebbe essere anche quella active seriamente il motivo per cui leggevo che sta carta è incredibile, fenomenale. Vediamo, perché dovrebbe essere distruttiva. Allora, leader skill, resurrected o planetary destruction... Vabbè, poteva mai essere, ci sta, ci sta, ci sta. Forse la leader skill più azzeccata in assoluto doveva essere planetary destruction o resurrection... No, in realtà sono entrambi azzeccatissime, vabbè. Chi più quattro? Capita che difesa 150%? Mica male, mica male. Non stavo di certo dicendo un'altra cosa. Resi... anche perché questo video, probabilmente ve lo dico, sarà... non sarà editato, uscirà così come è, perché devo scappare, devo fare veramente delle corsi incredibili, però volevo farvi avere questo video. Super attack, 12 ki. Resi attack per un turno, quindi fissato, l'overse attack e defense va bene. 18 ki, resi attack e defense per un turno, quindi sempre fissati ad un turno, resi attack... vabbè. Abbastanza standard, quindi sicuramente il suo forte, almeno per il momento, non è né sulla 12 ki, né sulla 18 ki, non leggendo la passiva. Leggiamo la passiva. Eh, aspettate però, mi devo spoilerare un attimo l'entra... eh, infatti ce l'aveva. Ok, quindi animazione d'ingresso... attenzione... Oh mio Dio... oh mio Dio, non sto capendo... Non sto capendo... Vabbè, animazione d'ingresso dal momento in cui... dal primo turno, praticamente, in cui attacca, quindi entra nel primo, entra nel secondo... Ok, questa cosa stavo cercando di capire, perché non mi pare che gli altri avessero una descrizione simile. Eh, vabbè, gli altri comunque erano forse limitati, alcuni almeno, a... a delle... eh... insomma, delle limitazioni. Quindi, per esempio, per Magin Vegeta, se non sbaglio, doveva esserci... Trunks, se non vado errato, o un qualcosa del genere. Qui invece, eh, per i Blue Boys... per... scusate, sì, sia per i Blue Boys che per i Monkey Boys non ricordavo ci fosse una dicitura simile, però starò sbagliando io. Eh, comunque... allora, animazione d'ingresso, a partire dal... dal primo turno in cui attacca, quindi o primo o secondo. Eh, riduzione... del danno ricevuto del 90% e all'inizio... Come riduzione del danno ricevuto del 90%? Perdonami. Ma, eh... o... o... ma come? E all'inizio di ogni turno riduce... Ah, la damage reduction del 10% fino ad un massimo di meno 60%. Cioè, lui, quindi, praticamente, parte dal turno 1 con 90% di riduzione del danno, va a perdere 10% di riduzione per ogni turno che passa, fino ad un massimo di meno 60%. Quindi, in teoria, lui, mettiamola così, dopo, eh... all'incirca 6 turni in cui lui entra, praticamente, eh... sì, dopo 6 turni, lui ha una riduzione del... del danno da 90% a 30%, che comunque non è... non è male. Certo, forse, vi dirò, sarebbe stato meglio... ma sarebbe stato clamorosi, in realtà, il contrario. E cioè, farlo partire da una damage reduction di 30% iniziale, per poi farlo salire man mano fino al 90%. Però lì, veramente, avremmo avuto, probabilmente, il personaggio finale, già da questo punto di vista, e... già leggendolo così, in realtà, per quanto riguarda modalità come Red Zone, eccetera... Secondo me l'hanno un attimino limitato, però già così è una partenza clamorosa, a dir poco. Chi più... quindi non... è inutile, praticamente, guardare la difesa per i primi 6 turni all'incirca, 5-6 turni almeno, perché tanto la difesa sarà, praticamente, secondaria. Cioè, potrebbero pure mezzo toglierla a momenti, in realtà no, però comunque lui si baserà, praticamente, tutto sulla damage reduction, il 90%, raga, è tantissimo. Inutile dirvelo, è tantissimissimo. Chi più... è quasi nullificare, anzi, se non nullificare un danno a momenti. Chi più 5, attacca difesa più 100%, ok, standard, addizionale attacca difesa più 100%, eh, attenzione, e lancia un addizionale superattacco, quando gli HP sono al di sopra del 50%, eh, qui le cose già iniziano a farsi molto più interessanti, soprattutto dal punto di vista offensivo, ve lo dico. Quindi, ehm, difensivamente parlando, invece, per i turni successivi, per quando noi andremo, praticamente, con la damage reduction attiva costantemente e perennemente al 30%, noi, eh, abbiamo un personaggio, un altro, solito, classico personaggio da slot 2. Anche se lui, comunque, i primi turni, la prima parte della battaglia, praticamente, è anche un pochino oltre, la prima metà, barra un po' dopo, se la fa anche tranquillamente da slot 1, ok. Eh, additional, chi più 2, difesa più 50%, a partire dal turno successivo, dopo che ha performato 5 superattacchi, quindi questa è una cosa fattibilissima, fattibilissima, visto che comunque abbiamo un additional praticamente garantito se stiamo al di sopra del 50% di HP, quindi ottimo. Addizionale, chi più 2 e attacco più 50%, a partire dal turno successivo in cui riceviamo 5 più attacchi. Quindi, va benissimo. Allora, perdiamo, ehm, no, in realtà, attenzione, perché questa roba potrebbe essere tutta staccabile in un certo senso, perché abbiamo i chi più 5 e attacca difesa, eh, più 100% di partenza. In più, se siamo al di sopra del 50% di HP, abbiamo altro attacco e difesa più 100%, in più, dopo che abbiamo lanciato 5 superattacchi, sempre se ci troviamo al di sopra del 50%, Raga, ma quanta roba può fare sto coso, scusatemi? Ma quanta roba può fare? Otteniamo, eh, ma no, otteniamo difesa più 50%, quindi in più, e poi dopo aver ricevuto 5 attacchi, anche l'attacco più 50%, che in teoria si dovrebbe andare ad unire a tutta questa roba. Ma è incredibile sto personaggio. Active, che può essere attivata a partire dal terzo turno, ah, quando abbiamo gli HP al di sotto, ok, 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 quindi con gli HP al di sotto del 50%, Gretry risatta che per un turno e... Ah, è una A o E, quindi, ok, 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 eh, questo è interessante, questo è molto interessante da Rod, indubbiamente mi pare un person... Eh, raga, ma questo è un personaggio clamoroso da Rod, in realtà, è un personaggio clamoroso da Rod, ci sto... Allora, è un personaggio clamoroso in realtà un po' in tutte le modalità, solo che più lo portate avanti, più, diciamo, che lui, dal punto di vista proprio della solidità, comincia a scendere. Ma questo, il Rod, è il personaggio finale. Finale! Cioè, voi state al... Ma, raga, il Rod, spostatevi tutti, mio Dio. Va bene, va bene. Link, prodigio, universo most malevolent, strongest in the space, in the universe, perdonatemi. Resurrected, resurrection of F, vabbè, ce la faccio a leggere un link bene. Super God, vedete perché non li leggo mai, Super God Combat e li lascio leggere a voi. First Battle e Legendary Power, va bene. Categorie tantissime, Resurrected, Planetary, Movie Bosses, Full Power, Transformation Boost, Wicked Bloodline, Terrifying Conquerors, Target Goku, Revenge, Nume Undeads, Gifted Warriors, Mastered Evolution, Sworn Enemies. Eh, Sworn Enemies qui, raga. Allora, io non lo so se la rotazione ha senso fare una rotazione FPF con lui, però staremo a vedere. Dai, dopo penso anche a quale team potremmo mettere su con questo personaggio e quale rotazione soprattutto. Ragazzi, voglio sapere cosa ne pensate di questo VG e nulla. Dai, fatemi sapere cosa ne pensate delle animazioni, ma soprattutto anche della carta che è davvero fantastica dovunque, ma in Road credo raramente di aver visto una carta più incredibile di questa qui. È veramente spaziale. Ragazzi, vi do appuntamento al prossimo video, dai, let's go. Ci vediamo anche questa sera in live magari, perché no, vi aspetto. Ciao ragazzuoli. Ciao ragazzuoli.